Accelerare per il progetto di fusione di Pescara Montesilvano e Spoltore con l'adozione di rimedi urgenti e di un itinerario capace di funzionare, lo ha detto il senatore del PD Luciano D'Alfonso, che ha parlato dell'avvio di una nuova era per 200.000 cittadini adriatici e per tutti coloro che la nuova Pescara potrà finalmente attrarre, rendendo propizio il tempo di tutti nei settori della formazione, del business, del turismo, della salute e delle attività culturali. Io non voglio mitizzare la data di arrivo, voglio dare valore alla data di inizio del cantiere, delle attività per la nuova Pescara. I tre comuni devono cominciare a lavorare coordinatamente, bisogna accettare un contributo importante che può dare la provincia di Pescara col suo presidente e anche un contributo che va chiesto a Regione Abruzzo sul piano delle figure amministrative, degli uffici che possono implementare il lavoro dei tre comuni, i quali hanno una difficoltà, sono vinti dall'emergenza della pandemia, dall'esperienza dolorosa dei profughi in arrivo. Allora vanno aiutati, sapendo che il lavoro è significativo e rilevante, non è burocratico, è un lavoro di intelligenza politica e di intelligenza amministrativa. Si tratta di allineare i linguaggi contabili dei tre comuni, i documenti anche riferiti al patrimonio, si tratta di allineare la tecnologia dei tre comuni, le schede di provenienza dei singoli dipendenti, devono essere coordinate quelle schede e avere un ordinamento funzionante. Si tratta di prevedere nello statuto norme di salvaguardia in maniera tale che a dieci anni, se qualcosa non funziona, si corregge. C'è da fare un intenso lavoro, ma bisogna cominciare subito. Comunico che dal Parlamento arriverà ad Oras buone notizie, grazie al lavoro di tutti, del collega Pagano, del collega Bagnai della Lega, del collega De Bertoldi, di Camillo D'Alessandro di Italia Viva, dei colleghi importanti dei Cinque Stelle, del mio partito, il Partito Democratico, 5 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023, 10 milioni per ogni anno a seguire fino a totalizzare 10 anni di supporto. Quindi dico, cogliamo il fatto che una legge regionale, un referendum, una domanda di cittadinanza, meccanismi normativi nazionali che stanno finalmente fotografando lo specifico della nuova Pescara. Chiediamo a Regione Abruzzo di aiutarci, anche con un ufficio dedicato che si dedichi ad accompagnare questo progetto. Si parla del 2027 però. Io non mitizzo, non ideologizzo, purché si comincia a lavorare da oggi. Non è che spostando la data di anno in anno noi troviamo i compiti fatti da altri. Rischiamo di fare giamburrasca. Lei ha parlato poi, non deve essere una scelta pescaricida questa. Beh, si uccide il progetto di Pescara se si organizza solo lo spostamento e non la cantieristica odierna. Abbiamo due prodotti, l'uno più intenso, l'altro più...